Ciao, benvenuti a questo video di unboxing di una busta ritenuta da Matteo Rinaldi e ora la andiamo ad aprire e la prendiamo per le torti e la prendiamo per le torti ok ok non ok 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 dettaglio, ruote, viti e bulloni del numero sufficiente per il finito e ecco la deck con un tour e non c'è la grafica perché non è importante la grafica come nello scherzo ma la grafica è l'ultima cosa ma importante, la resistenza, il materiale, ok, ora andiamo, è vuoto, ora andiamo ad aprire la ferra. Ecco la deck, bella, forma bella, X quasi a 90 gradi, bordi incolpati in vento, non c'è lo spazio più profondo per i track come in questo blind, anche i wooden, cioè i deck deck di legno, e i wooden deck. Ehm, si ho la rena, anche in capito, di tape. Ehm, ok, al prossimo video di unboxing. Ciao. Ciao. Ciao.